Musica Bentornati a Fammi Dalle Oni Questa mattina Sono pigiama Faremo una ricetta molto energetica Lo zabaione al limoncello Gli ingredienti per la ricetta sono 4 tuorli 100 grammi di zucchero 50 grammi di limoncello E la scorza di un limone Per prima cosa grattiamo un po' di buccia di limone Dentro la pentola insieme allo zucchero Musica Mi raccomando senza arrivare mai a grattare il bianco Perché se no il bianco è amaro E poi uniamo i 4 tuorli È cenato Ma è come a limone E un po' di buccia di limone Un po' di buccia di limone Ma è a mie E un po' di buccia di limone Un po' di buccia di limone Dopodiché, con le fruste, dobbiamo montare le uova e le succesive. Mano a mano, giriamo con lo sbattito e ruminiamo un po' alla volta un po' di limoncello. Come ultimo passaggio, prima di prendere il composto, messo a bagnomaria, mi raccomando l'acqua non deve mai dare a colore, continuando a girare, si deve montare e sfiumare. L'acqua è fissata, non l'avevo fatta tutta!